L'Ego e l'alter ego sono due componenti di tutti. Il primo, l'ego, è relativo al secondo, un primo, rendendo l'ego relativo, una vera reazione all'azione dell'alter ego, come il terzo principio della dinamica, dell'azione e della reazione, insegna molto bene. Con una mera conseguenza, che trascende veramente la nostra realtà, il vero soggetto vivente è l'alter ego, di cui il spirito umano. Dunque, il spirito, magneticamente e con l'antimaterale, avviene, nel suo tempo negativo, dal futuro tempo del nostro relativo ego, verso quello che solo il nostro ego considera il tempo passato, perché è, rarely, il futuro tempo del spirito umano. Il nostro spirito è antichristi, perché siamo spirituoli, in il nostro tempo presente, 21 centri prima del Dio, vivendo noi nel tempo del Dio padre. Questo, veramente, trascende la realtà del field elettrico e materiale, perché il tempo presente del nostro ego è 21 centri dopo Gesù Cristo. Questo evidente contraddizione esiste perché il diventamento del filosofo Eraclito non è vero, ma è solo un effetto cinematico. La verità reale è che il 10 accettato a zero è la semplice esistenza, tutto in potenza, ma esiste anche tutto in azione, come il prodotto tra il 10 e 10 accettato a meno di 1. Tutto esiste simultaneamente in queste due formi, e l'analytica di tutto in azione. tra questi due extremi, tutte le combinazioni esistono come frammenti di un'apparente diventamento. se un spirito guarda uno, A, dopo l'altro, B. A, Well Can believe that the situation becomes the other doing in this way a real mistake, only laying on the equal and contrary mistake che prima B diventa A e poi diventa B. L'apparente diventamento non è vero. 1. Only in this way in which two opposite mistakes are the absolute truth, only in this way we can be simultaneously anti-Christ in the spirit and after-Christ in the body of matter. Jesus explained this mystery to Nicodemo, Gospel of St. John, Chapter 3, revealing that two are the dynamics of life, that of the spirit and that of the water, the molecule that in one decimetre cubet is the unit of the matter by the actual science. By consequence, the Eleatic school was in the right. The Heraclito was wrong. The truth is the to-be which exists simultaneously with all his fragments interposed between all in power and all in action. The apparent becoming certainly it appears, but it isn't true. A situation doesn't become the other situation because everything is always itself. We perceive a mutation, a becoming, passing with our observation from one fragment to the fragment that is after the first. of the first. And we have the imagination of the becoming. And we have the imagination of the becoming. of the becoming. The one in which exists all the possible as an enormous system of all the possibilities. We name God this system because our position is one of the of the planet. And the planet is what responds to ourselves in the way of our spiritual condition. So, if I love, the system responds to the the system responds with love. If I am another in my spirits, the system responds in the language that I can understand. Because the system of relation between the one of us and all the system is one of us and all the system is a dialectic To understand. It is a Она of the standard in which the system is one of us and all of us. So, we have the systems and all of us have to understand this. It is something that we have to understand this. And, for example, it is the system of the systemF al livello di ciò che è nulla, per entrare in comunione con il suo limite.